Il personale non deve mai essere solo di fronte a questo tipo di episodi violenti che possono verificarsi e che evidentemente alterano anche il rapporto fisiologico e positivo che c'è tra le persone che vengono per esempio al pronto soccorso e il personale dell'ASL. Prevenire e contrastare gli episodi violenti nei confronti degli operatori sanitari, questo l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato in prefettura ad Arezzo. Prevede tutte le modalità di intervento in caso di aggressione a operatori del settore sanitario. Intervengono naturalmente le forze dell'ordine, l'intervento viene richiesto attraverso il numero unico, il 112. È un intervento chiaramente dedicato per cui all'attivazione, nel momento dell'allarme da parte del personale sanitario, le forze dell'ordine intervengono immediatamente per evitare che ci possano essere conseguenze. A siglarlo il prefetto, l'azienda sanitaria, il comune di Arezzo, l'ordine dei medici chirurghi odontoiatri e l'ordine delle professioni infermieristiche di Arezzo. La sicurezza di chi aiuta è la sicurezza di tutti e quindi in questo nucleo operativo che attiva una serie di azioni in base a delle situazioni particolari è un modo per rendere più sicure e più tranquille le persone che sono al nostro fianco, ma per questo noi dobbiamo essere vicini a loro, nella loro sicurezza che è un dato di singole persone e di professionalità. Un protocollo operativo per far fronte a comportamenti violenti sempre più frequenti. L'Asl sud-est Toscana ha numericamente avuto 230 aggressioni nell'ultimo anno, pertanto in Toscana rispetto alle 1200 aggressioni registrate a livello regionale si posiziona purtroppo ad una posizione molto pericolosa.